12 progetti finalisti, ognuno composto da un team di innovatori e un'azienda lucana che ha presentato un progetto di co-innovazione 6 i vincitori. Si è tenuta a potenza l'edizione del 2024 del Co-Innovation Award della Call for Innovation di Basilicata Open Lab, il programma per il sostegno dell'innovazione e dell'imprenditoria della regione Basilicata, realizzato da Eni, con il supporto di Shell Italia, attraverso JAUL, la scuola Eni per l'impresa e con i partner PoliHub e Consorzio ELIS. I progetti selezionati riceveranno la possibilità di accedere al programma di supporto allo sviluppo della sperimentazione di tre mesi, con l'affiancamento di mentor e coach di PoliHub e JAUL e la scuola Eni per l'impresa. Questo percorso ha permesso non solo l'incontro tra domande e offerta di innovazione, ma si è anche affiancato, ed è questa stata la grande novità, anche con un percorso di formazione di giovani lucani, che abbiamo accompagnato sulla possibilità di creare imprenditorialità attraverso una serie di metodologie. Ad oggi premeremo i finalisti, ma il programma non si ferma, prosegue con un'attività di sportello. Quindi JAUL, attraverso questo programma Basilicata, permetterà a chiunque voglia fare imprenditoria qui in Basilicata di poter avere un supporto in termini di competenze, di metodo e di avviamento al mercato. Le aziende avranno un supporto che andrà assolutamente nell'accompagnamento in termini di maturità tecnologica delle soluzioni, quindi noi andremo sul campo a verificare se effettivamente queste soluzioni poi hanno incontrato le esigenze delle aziende lucane e quello che faremo è poi assisterli nella fase successiva, cioè nel posizionamento del loro prodotto o servizio all'interno del mercato. Grazie. 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 Grazie.